In questi tempi, così critici e difficili, alla Coldiretti periodicamente si svolge anche la spesa su spesa, dove tutti i clienti, se vogliono, possono acquistare dei prodotti da destinare alla solidarietà. La Coldiretti collabora con menze per famiglie bisognose come la Casa di Gerico, Caritas e gruppi di famiglie che hanno accolto i rifugiati ucraini. Oltre tutto ciò si svolge anche Campagna Amica, una fondazione che nasce nel 2008, per realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell'agricoltura italiana, rendendo evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell'ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell'equità, dell'accesso al cibo a un giusto prezzo, dell'aggregazione sociale e del lavoro. Dal 4 di novembre, a seguire per tutti i venerdì e i sabato, al mercato di Via Fragerratana, insieme con i volontari vincenziani, parte l'iniziativa Prendi un libro e lascia un libro, indirizzata ai consumatori nisseni per favorire la lettura e unire la cultura del buon cibo a quello della lettura. Ci piace anche concepire il mercato di Campagna Amica come un contenitore di iniziative culturali o anche di sociali, perché qui abbiamo ospitato nutrizionisti oppure donatori di sangue, iniziative benefiche, e quindi diciamo che la Coldiretti apre le porte ai consumatori che oltre a comprare del cibo possono apprendere su quelle che sono le nostre iniziative. Una fra tutte importantissima ci sarà a Palermo dal 2 al 4 dicembre un villaggio Coldiretti dove la maggior parte delle nostre aziende si può rispondere nei loro prodotti a un pubblico regionale. Gli appuntamenti nella provincia di Caltanissetta con i mercati Campagna Amica sono 4 e sono il mercoledì mattina in Viale Lazio a Caltanissetta, giovedì mattina a San Cataldo e il venerdì e il sabato al mercato a coperto dove siamo in questo momento. All'interno dei nostri mercati troverete un paniere ben assortito di prodotti, sono tutti prodotti freschi, molto probabilmente raccolti il giorno prima. Gli prodotti spaziano dall'ortofrutta ai formaggi caprini o vini all'olio Evo, IGP e Doc. Inoltre troverete pure uova ricotta fresca, mandorle sgusciate e pelate.